Ciao a tutti, mamma e papà, sono Stefania Fumagalli, osteopata specializzata in osteopatia pediatrica e gravidanza e oggi vi parlerò del tummy time. Il tummy time è il mantenimento della posizione supina del vostro bimbo su un supporto di sostegno come può essere in questo caso il cuscino ad allattamento o anche sul tappetone. Adesso andremo a vedere come posizionare correttamente il vostro bambino su un cuscino. Allora, dovrete posizionarlo con i gomiti ben appoggiati sul cuscino in modo tale che si riesca a sorreggere correttamente. La schiena scende leggermente lungo la curva del cuscino e i piedini sono lasciati liberi. Questa posizione ci serve per favorire l'estensione del capo e quindi rinforzare tutta la muscolatura paravertebrale e della schiena. Possiamo aggiungere dei piccoli movimenti con un giochino in rotazione da un lato e dall'altro in modo tale che il bimbo seguirà con lo sguardo il giochino. Questo ci serve per stimolare meglio la vista e anche se usiamo un sonaglino l'udito. Questa posizione è molto molto utile anche nella prevenzione delle plagiocefalie quindi mi raccomando fatela più spesso potete durante l'arco della giornata almeno 30 minuti al giorno non consecutivi ovviamente ma diciamo come linea guida tutte le volte che il vostro bimbo è sveglio e non deve mangiare o essere cambiato lo possiamo mettere in questa posizione. Potete iniziare con il timey time già dal giorno 1 potete farlo sul vostro petto sul tappetone col cuscino potete sperimentare come volete sicuramente all'inizio vi sarà molto utile il cuscino perché per il bimbo sarà molto più difficile tenere la testa sollevata e quindi vi sarà di grande aiuto il sostegno del cuscino. Più sarà grande più potete togliere questo supporto e sfruttarlo in altro modo. Spero che questo video vi sia stato utile se volete altri consigli seguite la pagina di Koala Baby Care.